Ciao a tutti amici Nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, come promesso finisce la partita e andiamo subito con il video. Prima per commentare un po' la partita in generale, vedere un po' quali sono le sensazioni dopo questa partita che non sono sensazioni positive anche se ci sono ovviamente delle attenuanti e poi andiamo a dare anche un po' di pagelle ai giocatori anche perché ormai siamo in clima campionato, mancano 10 giorni all'inizio della stagione, all'inizio del campionato Genoa Inter si giocherà sabato 17 quindi stiamo parlando di 10 giorni all'inizio del campionato, abbiamo ancora l'amichevole col Chelsea. Insomma l'Inter oggi scende in campo a Monza per giocare la sua amichevole con la Litiad dopo la partita non affascinante, non bella, pareggiata in extremis con il Pisa che non aveva dato buone indicazioni almeno dal punto di vista della condizione fisica ci si aspettava un upgrade in questa amichevole contro la Litiad. Purtroppo questo upgrade non è arrivato, anzi devo dire che sono abbastanza preoccupato dalla situazione, dalla condizione fisica dell'Inter attualmente. L'Inter perde 2-0 con doppietta di Diaby, la Litiad ha avuto anche altre 2-3 occasioni per segnare ancora una clamorosa sull'1-0 per Benzema, che ha sbagliato un gol da solo davanti alla porta, 3 metri da Sommer, cosa non da lui ma anche lui mi è sembrato abbastanza fuori condizione a livello singolo, però una Litiad che vince l'amichevole e merita di vincere l'amichevole. Per quanto riguarda l'Inter poi passiamo a dare qualche voto, cerchiamo di capire un po' la situazione. Allora, l'Inter è indietro, è indietro di condizione, è vero che mancano 10 giorni, ci sono delle attenuanti ovviamente, ci sono giocatori che sono arrivati dopo, che hanno iniziato la preparazione dopo, Turam per esempio non l'ho visto in grande spolvero però insomma adesso poi daremo i voti. Abbiamo giocato senza attacco perché Turam ha pochi allenamenti sulle gambe, è indietro di condizione, Correa ancora una volta ha dimostrato di non poter far parte di una squadra di alto livello, non dell'Inter, ma proprio in generale di una squadra di alto livello e dimostra anche perché il mercato non lo interessi o meglio che non ci siano squadre a cui Correa può interessare. Il giocatore è completamente avulso da qualsiasi manovra, ha provato un paio di spunti che gli potessero consentire di farsi notare, però ha sbagliato due gol davanti alla porta, uno clamoroso sullo 0-0, temporeggiato, aspettato, poi ha perso l'occasione e è andata male. È un giocatore svuotato, almeno per questo palcoscenico non è più presentabile, ma questo lo sappiamo da parecchio tempo. Non c'era Lautaro in panchina, meglio appena arrivato, Arnautovic è infortunato, ma anche lui è un giocatore fuori dal progetto, Taremi è infortunato, tra l'altro a proposito dei infortuni si è fatto male proprio nell'ultimo minuto di recupero, anche De Vrij, problema anche per lui all'adduttore, quindi bisogna valutare la situazione, però diciamo che in questo precampionato, al di là dei risultati, non sta andando bene neanche la situazione fisica, perché abbiamo perso Taremi, abbiamo perso Zelinski, abbiamo perso Arnautovic, adesso perdiamo De Vrij, speriamo che sia una cosa di poco conto, però è chiaro che in queste condizioni, quando poi si parla di mercato e si parla della necessità di avere un giocatore in più in attacco e un giocatore forse di più in difesa, considerando che a Cervi e a De Vrij hanno 36 e 33 anni, 32 anni, insomma credo che sia abbastanza palese, e credo che ci sia il bisogno di intervenire sul mercato, perché se nella stagione si vuole provare a vincere di nuovo e provare a migliorare dove non si è vinto, bisogna assolutamente intervenire sul mercato, perché è vero che Zelinski e Taremi sono stati due ottimi acquisti, è vero che un portiere vice serviva e l'abbiamo preso, ma bisogna intervenire da altre parti, bisogna intervenire nell'attacco, assolutamente, bisogna intervenire anche in difesa, perché serve un difensore centrale, all'occorrenza se manca il braccetto si può spostare a Cervi il braccetto, ma comunque un difensore centrale, considerando i guai fisici che hanno avuto negli ultimi anni, De Vrij a Cervi e considerando l'età va preso, un difensore centrale va preso, quindi Oktri faccia uno sforzo se vuole mantenere l'Inter ad alto livello, perché credo che sia assolutamente necessario. Allora ragazzi andiamo con qualche pagella, le attenuanti l'abbiamo dette, carichi di lavoro comunque molto alti, per arrivare in forma alla partita, mancano dieci giorni, quindi credo che poi verranno un po' smaltiti, i giocatori che sono arrivati dopo, attacco che non c'è, però gli infortuni preoccupano. Diamo qualche voto, allora Sommer credo che non sia giudicabile, credo che possa prendere un 6 sul gol del 2-0, della Litiad, sempre di Diabin, ribattuta, Sommer comunque compie una buona parata, per evitare il 2-0, poi Diabin non era mancato da nessuno, perché DiMarco e Bastoni non c'erano, e quindi sulla ribattuta è bravo Diabin, e Sommer non può niente, sul primo gol forse poteva provare a andare in giù, a distendersi, però anche lui è appena arrivato, probabilmente non ha ancora riflessi pronti, però insomma non è colpa sua il gol. 6. Per quanto riguarda la difesa, due bocciati e un promosso, Bissek assolutamente una spanna sopra tutta la squadra, e quindi se parliamo di reparto difensivo, una spanna sopra tutta la difesa, Bissek 7 fa tutto lui, quando la difesa va in panna, e cioè spesso, o perché è troppo alta e non segue l'uomo, o perché perde le marcature, o perché è in ritardo, o come nel caso di Bastoni, che regala il gol del 2-0, Bissek è un giocatore in questo momento, a livello fisico, a livello di forma, uno step sopra tutti, quindi poi rischia anche di segnare a fine primo tempo, sempre con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo, però direi che Bissek il suo 7 se lo prende assolutamente, Acerbi è molto indietro, qualche buon anticipo, però sempre in ritardo, per il resto 5, vale lo stesso per Bastoni, che mi sembra anche lui fisicamente ancora da recuperare, speriamo che in questi 10 giorni, insomma, i carichi di lavoro vengano un po' smaltiti, ragazzi, io do voti a un amichevole, stiamo parlando di un amichevole, di giocatori che sono appena rientrati, però è anche vero che ci dobbiamo proiettare un po' a quello che sarà il campionato, e quindi insomma, non sto dando pagelle per essere ingeneroso nei confronti dei giocatori, però se dobbiamo ragionare in ottica Genoa-Inter fra 10 giorni, bisogna anche cominciare a capire qual è lo stato delle cose, qual è lo stato di forma dei giocatori e della squadra, quindi Bastoni 5, Darmian 5, anche lui non ha i giri giusti, si vede poco, in difesa in difficoltà, in attacco non si propone, poco, 5, Frattesi secondo me è uno dei più propositivi, nel primo tempo anche qualcosa di discreto, deve cominciare, sta cominciando anzi, a giocare un pochino più con i compagni, che era secondo me la cosa che gli mancava l'anno scorso, però mi sembra quello un pochino più in palla, in centrocampo, infatti Inzaghi lo tiene in campo, quando poi cambia tutta la squadra, lo tiene in campo più di tutti, e lo sostituisce verso la fine, però Frattesi 6, Ciala si vede che è appena arrivato, Ciala è ancora pesante sulle gambe, nonostante questo si gira, va a prendere palla, chiama palla, però una prestazione non sufficiente, neanche per Ciala, ma ragazzi ripeto, non si può giudicare un giocatore, faccio fatica, do dei voti generici, ma non si può giudicare un giocatore, che è appena arrivato, si sta ancora muovendo, si sta ancora a cariche di lavoro pesanti sulle gambe, fa fatica, comunque Ciala il suo 6 secondo me se lo prende, come si prende il suo 6? Barella, che è uno che è sempre in movimento, va a chiudere gli spazi, quando vengono lasciati un po' larghi, prova anche a proporsi qualche cross verso l'area di rigore, anche lui mi è sembrato uno dei tre più propositivi, ecco diciamo che Frattesi, Cialanoglu Barella come centrocampo nel primo tempo non mi è dispiaciuto, nel secondo tempo insomma sono calati parecchio, io giudico il primo tempo anche perché sappiamo che questi giocatori hanno pochi minuti nelle gambe, nel senso hanno un tempo sulle gambe, attualmente non possono avere di più, mi pare che questa amichevole, visto che i ritmi sono stati bassissimi, sia stata un amichevole per mettere minuti nelle gambe ai giocatori, perché per il resto si è visto niente, Di Marco 5, stesso discorso di Darmian, molto impreciso nei cross, cosa che non è da lui, sul gol del 2-0 di Abì, la rispinta di Sommer, lì non ci sono né bastoni di Di Marco, Di Marco era in ritardo davanti, insomma è anche vero che arriva, l'azione si sviluppa con un errore clamoroso di bastoni, che regala la palla agli avversari nel nostro metà campo, dando la palla a Benzema in orizzontale, un errore po' di distrazione, di lucidità che manca a livello di testa, quindi Di Marco forse sarà proiettato in avanti, comunque al di là di quello, non al massimo Di Marco, Turam ho detto prima, 5,5 perché si danno all'anima, comunque va a prendersi i palloni, prova qualche uno contro uno, però insomma ragazzi, Turam era nato l'altro ieri, ripeto, sono voti per proiettarci verso il campionato, non per bocciare o criticare qualcuno, stiamo parlando di una squadra che ha acido lattico, che ha gambe pesantissime, quindi Correa, che volete dire, Correa, 4,5, mi dispiace perché ci prova questa volta, a differenza di altre volte ci prova, però ragazzi, sembra veramente un caso perso, andiamo a vedere su chi è entrato dopo, perché poi ha cambiato tutta la squadra, Inzaghi, Fontana Rosa, bene, anche stavolta secondo me è molto bene, Fontana Rosa, 6, Dunfries, si prova, si impegna, ma appena arrivato anche lui, sbaglia qualche stop, due o tre cross improponibili, però ripeto, appena arrivato, 5,5, Salcedo, ci prova, ci prova, diciamo ci prova, si fa vedere, si impegna, un 6, Salcedo lo prende, Carlos Augusto rischia anche di segnare all'ultimo minuto, su un colpo di testa che poteva fare meglio, però non l'ho visto male, 6, Mkhitaryan, entra tra un brio diverso, intelligenza tattica, 6, Aslani stesso discorso, 6, Josef Martinez non è impegnato, SV ed Evrai, SV anche lui, si è visto poco, e speriamo soprattutto che il suo infortunio non sia qualcosa di grave, comunque ripeto ragazzi, mi aspettavo qualcosina di più, sono un po' preoccupato, non tanto perché credevo che andassero tutti a 100% all'ora, andassero tutti al 100%, però sono un po' preoccupato perché mancano 10 giorni al campionato, e lo stato di forma fisico e mentale non è dei migliori, Genoa-Inter è una paria che dà motivazioni diverse, perché campionato, siamo i campioni in carica, dobbiamo comunque sfruttare il momento, però io spero che nei prossimi 10 giorni i carichi di lavoro comincino a smaltirsi un po' sulle gambe, che i giocatori possano cominciare a fare il loro calcio, che non si è visto nelle ultime due amichevoli, va bene ragazzi, intanto vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, vi ricordo di attivare la campanella per avere notifica dei video, di schiacciare il pollice in su se il video vi è piaciuto, mi raccomando commentate qua sotto se siete d'accordo con me, ripeto sono pagelle tanto per entrare in clima, e poi niente contro la squadra dei giocatori assolutamente che stanno solo preparando, e poi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, che per me è molto importante, se guardate i video e vi capita di vederli spesso, iscrivetevi al canale ragazzi che mi fate un regalo, vorrei arrivare entro ottobre a 50.000, so che è difficile perché siamo già ad agosto, tutto agosto, tutto settembre, sono due mesi per fare 3.200 iscritti, ce la possiamo fare? Boh, non lo so, speriamo dai col passaparola vostro ci proviamo, ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Forza Inter. Grazie a tutti i nostri spettatori,